Si torna a parlare della SNAM con i candidati sindaco di Pratola Pellinia. L'appuntamento è promosso dal collettivo Altrementi Valle Pellinia in programma il 2 giugno a Pratola nella sala in via Trieste numero 28 alle 17. Ai candidati Alessandra Tomassilli, Pratola Insieme, Ghetano Di Cioccio, Futuro Comune, Cesirio D'Alessandro, persone come te, Antonella Di Nino, Pratola Bellissima, sarà chiesto di sottoscrivere liberamente un documento con cui si impegnano ad adottare ogni possibile iniziativa per impedire la realizzazione dell'opera. L'incontro sarà moderato da Savino Monterisi. L'infrastruttura rete adriatica, come da progetto, attraverserebbe la frazione Bagnaturo e ciò andrebbe a compromettere pesantemente sia la vocazione turistica o naturalistica della frazione pratolana, sia con i programmi elettorali della Speranti alla carica di sindaco, in quanto collocano lo sviluppo e rilancio di Bagnaturo tra le priorità da realizzare. Da ormai oltre nove anni, spiegano dal collettivo, il territorio resiste e continua la sua battaglia contro l'infrastruttura che nulla porta in termini di posti di lavoro, ma moltissimo toglierebbe a Pratola, Sulmone e a suo comprensorio, che ha tutte le peculiarità per crearne di numerosi e stabili, in perfetta sintonia con la sua vocazione naturale, evitando spopolamento con l'abbandono delle zone montane, senza più quei custodi che hanno tenuto sotto controllo frane e patrimonio arboreo, fuga dei giovani verso paesi esteri, spogliazioni di beni e servizi primari. Inoltre, l'opera, qualora venisse realizzata, aprirebbe la strada ad altre industrie impattanti e nocive.